Perché pensare a Maria significa che il Signore è entrato nella sua vita, possiamo dire nel suo corpo. Maria ha portato Gesù con sé, Dio è entrato nella storia. Le parole dell'Apocalisse, ma poi anche l'affermazione di Gesù, hanno scenari nuovi. Non vedo annunci che possono permettere all'umanità di non piangere più. Non c'è gioco in cui sentiamo tante notizie, non solo di guerra, ma anche in tante situazioni sul piano relazionale, almeno familiare, cittadino, regionale, a tutti i livelli. Siamo qui, nel senso di inocchio, e così dobbiamo portare a riservare la nostra vita, per essere parte di una strada, per essere parte di una strada, per essere parte della sua vita, per essere parte di un'inempatica, per essere parte della tua vita. Grazie a tutti.